14 appuntamenti da ottobre a maggio con due spettacoli fuori abbonamento di grande richiamo, il premio Oscar Nicola Piovanni il 22 dicembre e il balletto statale russo I Cosacchi del Don il 29. Sondrio Musica, la stagione sinfonica 2017-2018 in programma al Teatro Sociale, rinforza la collaborazione tra gli amici della musica di Sondalo, forti di un'esperienza di oltre 50 anni di rassegne musicali di qualità, e l'orchestra Antonio Vivaldi, portatrice di carica innovativa. Attraverso le voci degli organizzatori e dei protagonisti, Teleunica presenterà in anteprima i concerti e gli artisti di scena al sociale, dove le sette note comporranno un pilastro fondamentale della stagione. Lorenzo Passerini, direttore dell'orchestra Antonio Vivaldi, così spiega la scelta degli eventi in cartellone. Io credo che per proporre una stagione bisogna necessariamente tenere in considerazione quello che è il pubblico della stessa, nel senso che bisogna proporre delle serate diversificate, cercando di mostrare quello che è, a mio avviso, l'eclettismo dell'orchestra sinfonica, che non è paludata in un unico genere musicale della musica classica del Settecento o dell'Ottocento. E di fatti questo programma, secondo me e anche secondo il presidente degli amici della musica, D'Agasso, riesce a racchiudere tutto quello che è lo spettro della musica sinfonica. Di fatti nella stagione c'è anche un requin di Mozart, ci sono dei cantanti solisti, c'è per l'appunto un concerto jazz. Quindi insomma, quello che è l'eclettismo credo che sia la parola chiave per strutturare un cartellone che abbia senso e che possa dare l'interesse anche al pubblico, proprio di fare un abbonamento ad una stagione, perché è questa la cosa fondamentale, perché qualora si organizzasse un concerto singolo, si può fare naturalmente quello che si vuole, però nella stagione bisogna dare un ampio spettro.